diversi miei clienti nel corso della loro vita informatica sono passati da mac a pc ebbene una delle funzionalità di cui lamentavano maggiormente l'assenza sul pc era quella che dava la possibilità su mac os di guardare il contenuto dei file e delle cartelle senza essere costretti ad aprirli e questo è molto importante sia dal punto di vista della velocità che anche della sicurezza ma naturalmente gli ho spiegato che esiste un software molto interessante che si trova peraltro sul microsoft store che consente di fare proprio questo e siccome è così interessante vorrei mostrarlo anche a te ti senti pronto iniziamo per procurarci questa app utilissima dovremo andare sul microsoft store questo qui qualora tuttavia tu non abbia il microsoft store sulla barra in basso niente paura quello che dovrai fare sarà andare sulla lente oppure sulla barra di ricerca cliccarci su e digitare per l'appunto microsoft store vedrai che comparirà comunque la tua icona e potrai aprirlo una volta aperto il microsoft store quello che faremo sarà andare in alto nella barra di ricerca e digitare quick look premiamo invio per effettuare la ricerca e il programma che ci interesserà sarà questo qui quello con questa iconcina rappresentante una lente su una cartella per scaricarlo clicchiamo sul pulsante ottieni e aspettiamo il download del file ecco fatto il file è stato scaricato e a questo punto possiamo fare clic sul pulsante apri e chiudere il microsoft store non succederà apparentemente niente ma il programma sarà stato installato e lo potremo trovare in basso a destra tra le icone nascoste sul nostro computer come vedi eccolo qui ma come funziona questo programma è molto molto semplice quello che possiamo fare infatti grazie a lui è aprire una qualsiasi cartella e andare dopo aver selezionato un file qualunque a premere la barra spaziatrice vedremo comparire in anteprima il contenuto del file che in questo caso è un'immagine in questo caso è un pdf in quest'altro caso è un file html oppure ancora potremo vedere il contenuto delle cartelle compresse in questo modo qui come vedi all'interno di questo file compresso c'è il nostro amico rufus ma la cosa importante che possiamo fare tutto questo senza aprire effettivamente i file ed oltre alla questione della velocità saremo tutelati anche dal punto di vista della sicurezza se per esempio non ci fidiamo di un file potremo dare una sbirciatina rapida grazie a quick look e sincerarci che si tratti effettivamente del file che ci aspettavamo ma non basta un'altra cosa che può fare per noi quick look è quella di verificare il contenuto di intere cartelle e farlo letteralmente in un battibaleno se vogliamo infatti ottenere le informazioni su una qualsiasi cartella allo stesso modo ci basterà fare un solo clic sulla cartella e nuovamente premere la barra spaziatrice immediatamente compariranno tutti i dati relativi alle dimensioni e al contenuto della cartella stessa un altro innegabile vantaggio di quick look è che potremo aprire letteralmente una miriade di file senza essere costretti ad installare i relativi programmi se abbiamo bisogno solo di dargli un'occhiata e quindi di usarli in modalità di lettura e siamo giunti anche oggi al termine di questo video ma come ben sai non sono mai contento se concludo un video senza prima averti ringraziato per avermi fatto compagnia nel corso dello stesso salutato e dato come di consueto appuntamento alla prossima